Nessun documento, testimonianza o intercettazione dimostra che la signora Minetti ha concesso abitazioni o consegnato denaro alla minore per favorire la sua attività di prostituzione. Questo è il passaggio fondamentale della memoria difensiva degli avvocati di Nicole Minetti, secondo cui la loro assistita è completamente estranea alle accuse di favoreggiamento della prostituzione avanzate dalla procura di Milano alla consigliera regionale nell'ambito dell'inchiesta sul caso Rubi. In queste 12 pagine, la Minetti spiega che lei con Rubi ha avuto a che fare solo dopo quella maledetta notte di maggio, quando fu incaricata di andare alla questura di Milano per l'affidamento di quella che era stata presentata come la nipote del leader egiziano Mubarak. Affidamento durato pochi minuti, giusto il tempo di farla uscire. La Minetti dice che non è stata lei a portare Rubi ai festini di arcore, ok, e allora viene da pensare, c'entrano Emilio Fede e Lelemora, gli altri due indagati. Ma no, la Minetti spiega che la sua memoria non intende in alcun modo accusare gli altri due indagati. Certo, ma Fede Bene non l'ha presa, se non esita a consigliare a la Minetti e ai suoi avvocati una bella visita psichiatrica. E sulle accuse, il direttore del TG4 dice che lui Rubi l'ha conosciuta ad un concorso di bellezza in Sicilia e da allora non ne ha saputo più nulla. E chi l'ha portata ad arcore allora? Fede non ha dubbi, Rubi ai festini è arrivata attraverso Lelemora. L'impresario la prende male, Fede ha abboccato all'amo, dice Mora, la Minetti non ha neanche il suo numero di telefono. Alla fine tutti contro tutti e il caso Rubi diventa un gigantesco scaricabarile.